Eccoci con la nostra rubrica sull'attività amministrativa del comune di Palagiano una serie di appuntamenti che informano la collettività palagianese e non solo quella circa le azioni, gli atti che l'amministrazione comunale retta dal sindaco La Signa sta ponendo in essere insomma una carrellata in vari campi, in vari settori che vedono protagonista il comune di Palagiano e allora sindaco intanto la ringraziamo per questa opportunità perché molte cose non si sanno non si può sapere tutto se non c'è un'attività appunto di informazione che sia utile al cittadino anche perché le varie iniziative sono finalizzate hanno come destinatario e fruitore il cittadino e allora sindaco un po' considerando l'ultimo mesetto diciamo così quali azioni lei ha ritenuto e ritiene più meritorie insomma meritevoli di un approfondimento? Innanzitutto grazie a voi, benvenuti a Palagiano un saluto a tutti i nostri ascoltatori questo è stato un mese di transizione perché in quest'ultimo mese abbiamo non solo riofferto alla comunità una serie di spazi che abbiamo voluto rigenerare riconsegnandoli alla nostra Palagiano rinnovati e rifrequentati ma abbiamo anche per questo un periodo di transizione programmato un po' questo ultimo anno di amministrazione un ultimo anno di attività che prevede una pianificazione assolutamente legata alle opere pubbliche che abbiamo voluto riservare per questo ultimo anno ed una serie di attività legate invece ad altre sfere di azione come per esempio la sfera del bisogno come diciamo noi quindi l'azione legata alla gestione del nuovo centro polifunzionale il nostro centro che oggi accoglie già dei servizi accoglie già il centro diurno per ragazzi diversamente abili ma diventerà presto un luogo di accoglienza per altre sfere del bisogno minori, anziani, disabili, gravi e quindi quello diventerà un luogo importante per la nostra comunità perché inizierà a svolgere un servizio essenziale un servizio identitario Ecco Sindaco tutta questa attività amministrativa ora ne stiamo, grazie a Dio, uscendo fuori ma questa attività è stata realizzata in pieno periodo in piena emergenza covid l'ultima volta che ci siamo visti lei ricorderà si stava sistemando il drive through attraverso il quale appunto si venivano eseguiti appunto i tamponi diciamo che questa luce che inizialmente si è intravista in fondo al tunnel ora sta diventando davvero un qualcosa di luminoso ecco, ciò nonostante si è andati avanti non è stato facile perché coniugare le impellenze amministrative con un mondo che veramente ci ha messo in ginocchio Hai perfettamente ragione non è stato semplice non eravamo pronti ad affrontare una emergenza di questo genere tuttavia abbiamo dovuto tirare fuori tutte le nostre possibilità gestionali le migliori possibilità gestionali per affrontare un'emergenza epocale noi probabilmente saremmo ricordati come i sindaci del periodo covid e comunque non potevamo trascurare l'azione amministrativa ordinaria e straordinaria non potevamo sospendere la vita di una comunità nell'anno del covid abbiamo dovuto, voluto e per certi versi mi permetto di dire saputo affrontare le emergenze covid facendo tutto quello che era necessario fare per contenere i contagi anche se poi è chiaro che i contagi non si sono mica lasciati contenere dalle azioni pure buone delle amministrazioni o di quello che abbiamo fatto qui a Palagiano però abbiamo cercato di dare, ripeto, il massimo dei nostri impegni per contenere il problema covid ma contemporaneamente abbiamo seminato perché si potesse anno per anno raccogliere quei risultati che avevamo programmato ecco, ci tengo a precisare questo aspetto la programmazione è una delle cose che più mi piace raccontare di questa esperienza amministrativa che ormai, diciamo così, volge al termine visto che abbiamo l'ultimo anno di amministrazione la programmazione tutto ciò che abbiamo fatto non è accaduto per caso tutto ciò che abbiamo fatto lo abbiamo volutamente programmato, strutturato, organizzato e inserito in un cronoprogramma molto più ampio e poi mi permetto sempre di sottolineare questa grande come dire, questa grande magia che si è creata all'interno di questo gruppo volendo tenere e mantenere gli assessori e gli assessorati dal principio dell'esperienza amministrativa sino al termine al netto dell'esperienza di un assessore che ha voluto dimettersi tutto il resto della squadra è rimasta compatta verso un obiettivo e poi il grande lavoro dei consiglieri che hanno sempre supportato il lavoro degli assessori e di questo ufficio di sindacature e hanno sempre proposto iniziative e lavorato a che le iniziative si realizzassero Ritorniamo all'attività amministrativa di quest'ultimo mesetto anche poi in prospettiva degli obiettivi che nel breve e medio periodo si intende perseguire In questo mese abbiamo tra cantieri chiusi e cantieri in apertura abbiamo al momento su Palagiano 18 cantieri attivi abbiamo riconsegnato le prime tre piazze narranti di un percorso molto più ampio stanno per iniziare le opere importanti su via San Domenico e su altre vie importanti della città opere che portano Palagiano verso la realizzazione delle linee guida del PUMS che è il piano urbano della mobilità sostenibile stiamo cercando di spostare il paradigma della mobilità su Palagiano da una mobilità prevalentemente carrabile ad una mobilità ci auguriamo prevalentemente ciclabile è chiaro che sono processi lunghi e che pretendono un coinvolgimento generale e soprattutto che pretendono l'azzeramento di polemiche spicciole e fine a se stesse molto spesso dobbiamo pensare più provocatorie assolutamente provocatorie assolutamente finalizzate a quella che sarà la nuova tornata elettorale il nuovo agone politico che ci prepariamo a vivere in funzione delle elezioni 2022 ma questo chiaramente sappiamo bene fa parte del gioco sappiamo bene che poi coinvolge come dico spesso io prevalentemente le stesse persone che sono ora di qua ora di là sempre le stesse a cavalcare una qualunque polemica pur di avere la visibilità necessaria per poter dire ci siamo anche se molte volte certe uscite come dire a sproposito si rivelano boomerang in effetti beh sì comunicativamente si rivelano boomerang ma questo diciamo è proprio l'effetto conclusivo ma io vorrei come dire come nel diritto lei ci insegna molte volte ci sono le cause temerarie che sono fatte proprio per provocare ma fuori posto senza un minimo di consistenza esattamente l'esempio calza a pennello la temerarietà della lite è un esempio chiaro che stiamo vivendo anche in queste ore in questi giorni e devo dire che laddove invece la lite non era temeraria ma vi erano dei presupposti di natura sociale culturale politico amministrativo economico abbiamo saputo analizzare le cose e abbiamo deciso di fare anche un passo indietro in questi anni è accaduto che qualche scelta sia stata ritrattata anche grazie alla partecipazione della gente però è chiaro che come dico sempre io un'amministrazione non funziona nella misura in cui accoglie la contestazione se ne discute se ne parla ma la contestazione rimane tale poi se diventa esasperata ed esasperante smette pure di essere una contestazione intelligente diciamo ecco non solo abbiamo riconsegnato queste opere alla comunità ci tengo molto perché noi stiamo via via rigenerando delle aree della nostra città partendo dalle piazze non è stato un caso le piazze sono un luogo d'incompo l'agorà la famosa agorà la famosa agorà che sta tornando ad essere sempre più agorà fisica perché ormai siamo travolti dalle agorà telematiche cibernetiche insomma ma ripeto mi piace raccontare il programma di questo anno quindi stiamo lavorando al progetto del palazzetto dello sport stiamo lavorando siamo in fase di affidamento al progetto di ricostruzione di una scuola media la scuola i due plessi Giovanni XXIII e Rodari che sono su Corso Lenne verranno completamente abbattuti e ricostruiti lei pensi che il primo incontro con le scuole dove appunto il nostro assessore Marco Orsini espose il progetto raccontò il progetto risale a due anni fa ecco da due anni noi stiamo lavorando a questo che sarà un progetto riteniamo epocale per Palagiano perché avere una nuova scuola con quegli standard di edilizia di funzionalità di spazio questa norma proprio secondo le normative proprio più di questi di questi giorni oseremo dire perché la materia è in divenire assolutamente la cosa la cosa che più mi piace è che poi diventa un elemento magari per addetti ai lavori ma che segna il passo di questa che noi chiamiamo rivoluzione educata garbata Palagiano gli studi di architettura che hanno partecipato a questa manifestazione di interesse abbiamo studi che hanno scritto da Torino da Roma da Bologna da Parigi da Pescara oltre che chiaramente molti studi locali abbiamo architetti con nomi importantissimi che si propongono di ecco progettare la nuova scuola di Palagiano questi sono piccoli segni che dicono che evidentemente qualcosa sta cambiando e sta cambiando in meglio Sindaco uno dei momenti degli aspetti fondamentali che è un po' come dire lo scheletro l'impalcatura di una realtà è il PUG il piano urbanistico generale sul quale state lavorando sappiamo che tutta diciamo la gestazione è una gestazione molto lunga proprio di per sé anche perché richiede una partecipazione della collettività a che punto stiamo? questo è un altro grande impegno ecco io non ho mai parlato di promessi ho sempre parlato di impegno un altro grande impegno che abbiamo assunto con la comunità quello di chiudere il percorso del piano urbanistico generale Palagiano è ferma urbanisticamente agli strumenti del pdf del 73 71-73 con una variante ed è chiaro che è fermo lì e lo si vede anche urbanisticamente che è fermo lì e non è un caso che sia rimasta paralizzata a quegli anni ci sono stati dei tentativi l'amministrazione Ressa ha cercato di chiudere l'esperienza del Pug e su quell'esperienza ci siamo inestati noi perché abbiamo voluto mantenere il documento programmatico preventivo il dpp abbiamo voluto basare su quello il nuovo Pug portando chiaramente apportando le modifiche necessarie abbiamo affidato ad uno studio importante i lavori di pianificazione e proprio con l'architetto Fuzio stiamo lavorando insieme chiaramente all'assessore Orsini a tutto il gruppo di maggioranza all'ufficio tecnico stiamo lavorando alla relazione istruttoria che è pronta ed è in fase proprio di analisi e di vaglio delle componenti politiche sarà portato in giunta a breve giro e quindi questo documento offerto alla partecipazione pubblica sono programmati quattro incontri con gli ordini professionali con i tecnici locali con le associazioni locali ed infine con l'intera comunità con un incontro in piazza se diciamo le normative covid ce lo permetteranno proprio perché si tratta di scelte partecipate assolutamente scelte partecipate che segnano davvero il futuro della nostra comunità io devo essere sincero come sempre mi capita di fare anche nelle interviste vi erano alcuni elementi di questi aspetti tecnici a me completamente sconosciuti anche quando molto tecnica la materia assolutamente una materia tecnica e per un sindaco che ha sempre fatto l'avvocato diciamo avere queste conoscenze tecniche era una come dire un passaggio obbligatorio avere il confronto non gli approfondimenti necessari ora mi è capitato di leggere di approfondire di studiare anche degli aspetti che sono veramente clamorosi che sono importantissimi per la nostra città ecco perché è necessario che questi elementi vengano condivisi innanzitutto con i tecnici della nostra comunità tanti assolutamente professionali e che certamente daranno il loro contributo alla migliore redazione del documento bene sindaco ci siamo fatti questa chiacchierata non per il piacere di chiacchierare ma per il piacere di informare di illustrare a breve prossimamente saremo di nuovo qui e come dire notizieremo la collettività di quello che si fa ma non per fare un discorso di propaganda ma perché è giusto che la comunità il cittadino si renda conto di quello che sta facendo e di anche il suo contributo di idee nel bene e nel male si può anche criticare ma proprio nel senso etimologico del termine di crino giudicare perché magari per me questo libro è posto male in questo punto del tavolo invece andrebbe messo lì migliorarsi e rendere quindi sempre una come dire una produrre una azione amministrativa che sia ritagliata appunto per i bisogni della collettività e io mi trovo d'accordissimo è chiaro che come dico sempre le porte sono aperte per ogni fase di intervento ma mi auguro sempre che le critiche siano sempre conseguenti all'approfondimento e allo studio della materia perché criticare per criticare saremo bravi tutti occorre invece darsi l'occasione di confrontarsi sui temi e quindi il mio invito come sempre è quello a venire proprio qui in stanza da me sediamoci al tavolo ragioniamo anche perché lei ha i suoi giorni di ricevimento quindi io sono praticamente se non fuori per impegni istituzionali sono sempre in comune anche oltre i due giorni di ricevimento che sono un pretesto per organizzare gli incontri ma in realtà da mattina a tardo pomeriggio io sono prevalentemente in comune ma poi Palagiano ormai molti cittadini anzi tantissimi hanno i miei numeri di telefono i miei contatti social per cui ci possiamo organizzare come sempre accade in ogni modo a me piace il confronto perché mi piace sempre raccontare quello che c'è dietro questa meravigliosa esperienza amministrativa continuo a dire meravigliosa esperienza amministrativa perché non me l'aspettavo neanche io di viverla in questa maniera così serenamente grazie sempre al supporto della gente ai loro consigli ai loro confronti e quindi la nostra speranza è di continuare così certamente per questo anno e poi chissà vedremo per il futuro un'analisi dell'attività amministrativa del comune di Palagiano con il sindaco con gli assessori per appunto informare la collettività su quanto si sta realizzando amministrativamente gli obiettivi raggiunti i programmi i progetti e siamo con l'assessore Mimmo Catucci che è titolare delle deleghe all'agricoltura al commercio alle attività produttive al bilancio dei settori certamente nevralgici della vita amministrativa ecco facciamo un po' il punto di questa attività diciamo così negli ultimi 30 giorni più o meno sì grazie innanzitutto per questa intervista perché ci dai la possibilità effettivamente di andare a descrivere quella che è l'attività amministrativa che come ogni anno viene inquadrata viene definita da quello che è il bilancio dell'ente perché con i documenti di programmazione come ben sappiamo si dice quello che l'ente vuole fare noi siamo stati in consiglio comunale ad approvare il bilancio il mese scorso e se si legge il bilancio del comune di Palagiano relativo all'anno 2021 ci rendiamo conto di quello che sono gli obiettivi di quello che è l'operato che vuole realizzare in questo anno l'amministrazione partendo per esempio da un piano triennale delle opere pubbliche a dir poco mastodontico grazie all'aiuto della responsabile dell'ufficio tecnico dico vabbè di tutto l'ufficio tecnico e dell'assessore lavori pubblici Orsini siamo riusciti a inquadrare meglio a quadrare il cerchio relativo ai lavori pubblici e come ho detto prima il piano dei lavori è molto molto importante molto consistente dal punto di vista degli importi oltre ai lavori che già abbiamo posto in essere le tre piazzette i lavori del Duc con degli investimenti importanti sul quartiere Bachelet adesso ci sono i lavori relativi a via San Domenico quindi lavori di riqualificazione urbana molto importanti il palazzetto dello sport l'area RFI a Chiatona e le scuole sono dei lavori di milioni di euro per i quali abbiamo trovato delle risorse molto importanti perché è inutile dirlo se il bilancio non è sano l'amministrazione non può investire sul patrimonio e quindi non può valorizzare quello che è un palazzo che si reggerebbe senza fondamenta solide esatto io mi ricordo per esempio nel 2017 quando ci siamo insediati era luglio del 2017 la situazione era una situazione a dir poco grave perché si rischiava effettivamente quella che era la procedura del predisesto perché mi ricordo che era appena arrivato un decreto ingiuntivo importante e si è faticato non poco per trovare risorse per coprire quella causa persa dal comune poi piano piano anche grazie alla collaborazione dei consiglieri degli assessori e degli uffici bilancio si è risanato fra qualche giorno fra qualche settimana andremo per esempio in consiglio comunale per approvare il rendiconto di gestione adesso il rendiconto è al vaglio dei revisori naturalmente parlo del rendiconto 2020 che si chiude ancora un anno senza disavanzo questa è una cosa molto importante perché ci fa capire effettivamente che tutto ciò che si sta spendendo tutto ciò che si sta investendo per l'acquisto di beni servizi sul patrimonio comunale viene fatto con un bilancio in equilibrio bilancio in equilibrio significa che non lasceremo eredità pesanti in termini economici finanziari e patrimoniali ai nostri successori perché sembra e si sta andando verso quella direzione che il bilancio sia un bilancio finalmente risanato ecco assessore lei è anche titolare della delega all'agricoltura e sappiamo che la comunità palagianese è una comunità essenzialmente rurale molto legato alla risorsa terra l'attività amministrativa in questa direzione l'attività amministrativa nel settore agricoltura è un'attività che si sta chiudendo in questi giorni con la liquidazione con il ristoro dei danni da calamità 2017 ormai purtroppo devo dirlo è dal 2017 che gli agricoltori non riescono a realizzare un reddito dignitoso dei propri terreni agricoli dalle proprie coltivazioni dal lavoro che quotidianamente svolgono nei campi perché sono anni di calamità purtroppo nel 2017 ci furono delle nevicate dal 5 al 12 gennaio poi ci sono state delle grandinate quest'anno l'8 e 9 aprile c'è stata un'altra gelata e io ho fatto mercoledì scorso un sopralluogo sul territorio nell'agro di Palagiano per quantificare i danni con l'ispettorato agrario come ti dicevo stiamo finendo di liquidare i ristori dei danni da gelata 2017 anche lì si era partiti un po' in sordina poi piano piano anche grazie all'aiuto dell'assessore regionale abbiamo trovato sono state trovate dal bilancio regionale delle risorse che stiamo distribuendo agli agricoltori io l'invito che faccio anche per quest'anno è a fare le segnalazioni dei danni anche se io mi rendo conto che l'assessorato dell'agricoltura dovrebbe significare di più di segnalare danni da calamità dovrebbe significare per esempio anche aprire un tavolo di concertazione con gli agricoltori perché ho l'impressione che quello che è il grosso problema del nostro territorio è la commercializzazione la commercializzazione del prodotto noi siamo ottimi agricoltori però abbiamo problemi quando commercializziamo il prodotto perché per esempio l'agro la proprietà è molto frammentata quindi è difficile mettere insieme per esempio un'unica persona giuridica che può chiamarsi cooperativa che può chiamarsi consorzio tante proprietà tante persone tante aziende agricole quindi l'invito che faccio ai miei concittadini agricoltori titolari di partita di partita IVA e di aziende agricole è quella di unirsi di accorparsi in modo tale da essere più competitivi sul mercato quando si va a vendere poi quello che è il nostro prodotto di eccellenza il Clementine di Palagiano Assessore lei alla delega e così concludiamo la nostra disamina dicevamo alle attività produttive al commercio sappiamo il momento che abbiamo vissuto ne stiamo uscendo quello del covid con tante attività che purtroppo a causa delle restrizioni davvero hanno vissuto e stanno vivendo anche un tracollo economico cosa si sente di dire in che modo l'amministrazione vuole essere vicina ovviamente a realtà produttive che hanno dovuto subire dei danni a causa di un'epidemia che nessuno ma neanche nei peggiori incubi avrebbe potuto immaginare l'unico modo attraverso il quale l'amministrazione può stare i ristori ripeto molte volte sono quelli che sono e non riescono a coprire ovviamente mesi e mesi di stop esatto i ristori non riescono purtroppo a ristorare quello che è il mancato guadagno di un'attività produttiva di un'attività commerciale che purtroppo durante il periodo covid ha visto una riduzione drastica un tracollo del fatturato a causa della crisi di mercato l'unico modo è quello per il momento di dare una mano con degli sgravi fiscali con gli sgravi per esempio TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico o con degli sgravi tari per quanto riguarda la bolletta della spazzatura però quello è l'unico modo per il momento che l'ente può è l'unico modo attraverso il quale l'ente può stare vicino alle attività che stanno vivendo questo periodo di crisi profonda Bene Assessore la ringraziamo a breve avremo modo di sentirci di fare il punto su quanto è stato realizzato e su quanto si realizzerà da Palagiano è tutto alla prossima Ci stiamo occupando in questa rubrica delle attività dell'attività amministrativa del comune di Palagiano appunto considerando i vari settori le varie branche di cui si compone l'amministrazione siamo con Marco Orsini che è l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica del comune di Palagiano col sindaco abbiamo analizzato un po' alcune opere pubbliche ma con lei vogliamo proprio soffermarci su quello che è il metodo quella che è la linea direttrice che ispira l'amministrazione che fa da guida appunto nel realizzare le opere pubbliche grazie di questa domanda che ci permette proprio di entrare nel merito del metodo che l'amministrazione ha voluto portare avanti e che secondo noi fa anche in sé la differenza noi siamo partiti dall'idea di voler riportare al centro della nostra attività la bellezza voler riportare al centro della nostra attività la partecipazione dei cittadini voler provare riportare al centro il progetto per esempio il sindaco faceva riferimento alle piazze tutte le piazze sono unite da un filo conduttore le abbiamo chiamate piazzette narranti e vedono la conclusione di un percorso di un percorso che è partito da un concorso di idee concorso di idee per giovani progettisti quindi abbiamo voluto intanto provare anche a rilanciare giovani nel mondo della della professione offrendo loro l'opportunità di esprimersi magari qualcuno di loro per la prima volta abbiamo fatto questo concorso di idee per giovani progettisti i vincitori hanno avuto la possibilità di dirigere i lavori delle opere e quindi queste piazzette narranti diventano dei luoghi nei quali il cittadino potrà trovare uno spazio di incontro uno spazio di relazione infatti ogni piazzetta è dedicata a una fascia di età è dedicata ad un target quindi abbiamo la piazzetta dei nonni e dei nipoti la piazzetta a tema diciamo la piazzetta a tema esatto provando come dire a creare dei luoghi e per esempio mi ha fatto tantissimo piacere vedere nella piazzetta che abbiamo dedicato agli adolescenti senza bisogno di dire nulla se andiamo adesso insieme stasera la vediamo piena di ragazzi che giocano sulla rampa piena di ragazzi seduti a chiacchierare e l'hanno da subito adottato perché l'hanno sentito davvero loro ecco altra delega che lei ha è quella all'urbanistica e quindi il riferimento ovviamente al piano urbanistico generale certo ovviamente forse il documento più importante che un'amministrazione si può più lavorato più complesso molto complesso infatti ci è voluto un pochettino di tempo anche per portare a regime la componente economica perché capite bene per un documento del genere è necessario un impegno economico significativo quindi un grazie anche all'assessore al bilancio che ci ha aiutato a raggiungere questo risultato il piano urbanistico generale per motivi legati anche a una maggiore celerità dell'iter si innesta sul piano urbanistico generale che era stato in qualche modo adottato in una prima fase quindi facciamo salvo in qualche modo il documento programmatico preliminare quello che si chiama il documento programmatico preliminare che è un documento che in qualche modo detta le linee è un documento che rivedremo ovviamente pesantemente anche per adeguarlo alla nuova pianificazione urbanistica perché vogliamo che sia un documento che permetta una maggiore snellezza delle procedure che sia calato in un'urbanistica più moderna attenta al paesaggio attento anche a un'imprenditoria che in un mondo che cambia così velocemente non può essere un elemento di ostacolo un elemento di rallentamento ma deve invece favorire il più possibile una celerità delle trasformazioni Alla scoperta e alla informazione circa le attività dell'amministrazione comunale di Palagiano e stiamo cercando così di affrontare di trattare i vari settori siamo con Salvatore Pulimeno che è il consigliere comunale delegato allo sport sappiamo tutti che lo sport è una attività essenziale proprio ai fini della socializzazione ai fini della crescita di un territorio quello sport sano quello sport che vede uniti e che ha una funzione evidentemente educativa come ci si sta muovendo in termini di realizzazioni di opere per l'attività sportiva e di eventi nei limiti ovviamente di quelle che sono le restrizioni limiti imposti dal covid sì lo sport non solo come attività di socializzazione come hai ben detto ma lo sport anche come attività che può far ridurre di molto la spesa sanitaria perché come salute proprio come salute sì sì come salute cioè fa star bene le persone quindi automaticamente la spesa sanitaria si riduce quindi a mio avviso gli enti pubblici le amministrazioni pubbliche ai vari livelli devono tenere più in considerazione questo settore che è lo sport bene noi a Palagiano abbiamo avviato diversi progetti tra i quali il completamento del palazzetto abbiamo avuto il finanziamento per il progetto esecutivo dell'opera quindi a breve affideremo questo e poi stiamo trovando delle risorse per il nuovo stadio Marco Stea un impianto che a nostro avviso deve vedere il manto in erba sintetica il completamento e il miglioramento della pista di atletica leggera se è possibile farla a sei corsie la faremo a sei corsie altrimenti a quattro corsie che anch'essa è omologabile per gli eventi nazionali ed internazionali e poi l'impianto di illuminazione con la ristrutturazione anche degli spogliatoi a breve partirà il progetto del percorso vita nel rione Bachelet un progetto voluto da questa amministrazione dove nella pinetina attigua proprio al quartiere Bachelet verranno realizzati dei percorsi con attrezzi ginnici attrezzi sportivi una fontanella una nuova staccionata una nuova recinzione e lì la gente gli sportivi le famiglie possono ecco passare il loro tempo facendo sport facendo delle attività ginnica e stando in salute ovviamente Proseguono i nostri incontri con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Palagiano proprio con lo scopo di illustrare le attività gli atti amministrativi che vengono posti in essere proprio per informare la collettività e per dare anche occasione di suggerimenti di proposte siamo con Mino Perniola che è il consigliere comunale delegato alle marine beh sta per arrivare siamo praticamente in estate quindi è giusto fare un po' il punto circa le iniziative nell'ambito delle marine sì allora per quanto riguarda le marine anche quest'anno abbiamo insomma da bilancio messo a disposizione delle somme per riqualificare un attimo il territorio noi abbiamo la fortuna di avere due sbocchi a mare che sono Marina di Lenne e Marina di Chiatona per quanto riguarda Chiatona quest'anno abbiamo previsto una riqualificazione del lungomare con delle panchine in marmo e anche dal punto di vista insomma della della flora una sistemata all'alberatura del viale con delle sostituzioni di piante secche e la potatura insomma delle piante già esistenti oltre a insomma per quanto abbiamo a disposizione insomma non potevamo lavorare molto sulle strade e quindi anche quest'anno faremo una sorta di rattoppo delle buche giusto per permettere la viabilità in un certo modo e oltre questo stiamo lavorando anche nella nella costruzione di servizi igienici pubblici che prevedono servizi igienici e docce ma questo è un lavoro che chiaramente svilupperemo in quest'ultimo anno di amministrazione per quanto invece riguarda marina di lenne che è una riserva anche biogenetica e quindi non abbiamo possibilità di fare delle azioni importanti nel senso che vogliamo conservare quel tipo di habitat che abbiamo lavoreremo insomma in quella direzione per far sì che la spiaggia sia fruibile in un certo qual modo creando anche una sorta di contingentamento per gli ingressi come abbiamo fatto negli anni scorsi più di questo insomma non potevamo non potevamo fare anche in quella direzione in un certo Grazie a tutti.